Buonasera e benvenuti al Focus Tg. Vi stiamo raccontando ormai da questa mattina cosa succede in Veneto, in Italia e nel mondo con l'emergenza coronavirus. Facciamo un piccolo riassunto. Partiamo da questa mattina, da quando il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa è stato molto chiaro e molto duro. Ha detto che se non rispetteremo tutti noi, tutti i cittadini, le istruzioni che ci sono state date, c'è il rischio che l'epidemia diventi ancora più grave. Entro cinque giorni ci sarà il picco nelle terapie intensive del Veneto e questo segnerà un punto di svolta probabilmente verso una risoluzione o verso un periodo ancora più buio. Possiamo probabilmente deciderlo solo noi con i nostri comportamenti, tanto che il Governatore ha richiamato più volte i Veneti a un dovere, quello di rimanere in casa, quello di non muoversi se non ce n'è un'effettiva necessità. Quindi gli spostamenti si fanno solamente se c'è una necessità. Poi andremo a vedere quelle che sono le regole da rispettare in questi giorni. Ma prima di tutto vediamo proprio cosa ha detto Zaia questa mattina. I Veneti devono capire che devono stare in casa. I Veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra cinque giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo due milioni di Veneti contagiati. Di vieti, restrizioni, appelli accorati, niente sembra bastare per chiarire ai cittadini che possono uscire di casa solo se strettamente necessario. E allora il Presidente del Veneto, Zaia, arriva in conferenza stampa con un cipiglio completamente diverso. È informale anche nell'abbigliamento, niente cravatta e soprattutto è determinato a farsi capire una volta per tutte. Allora il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio di alimentari per approvvigionarsi di genere alimentari o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai Veneti. Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. Il peggio sta arrivando e che si vada incontro al blocco totale o meno la questione non cambia. Chi può si tappi in casa senza tante discussioni. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è un'emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, ma per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che è un R0 per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone. Il rischio è quello di far collassare gli ospedali. Il contagio va necessariamente rallentato, quantomeno diluito nel tempo. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i Veneti non ascoltino bene le mie parole evitino di mandarmi commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i Veneti non seguono queste indicazioni ci svuotano gli ospedali, ma ce li svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta gli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Impossibile fare il tampone a tutti i Veneti, solo il rigore e l'autodisciplina di ciascuno può dare un risultato per contrastare un'emergenza che durerà, dice Zaia, ancora per diverso tempo. Abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io queste robe non le voglio liquidare con beh, è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero. Non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di voi. Allora, oggi la partita passa in mano ai Veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, non andate alle cene dagli amici, non fate come quando vediamo nei film, che se ti vietano l'alcol allora metti la bottiglia nel cartoccio di Cardwell così non vedono che bottiglia. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti. Niente, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. È un invito, è un ringraziamento al mondo della comunicazione. Diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto. Se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci. Se continua così, si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. La verità oggi è che questo virus, qui da noi, fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni. Non è normalità. E una conferma della gravità della situazione arriva dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che conferma che il coronavirus è una pandemia. L'OMS ha diffuso una nota in cui conferma che questo virus, che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli esseri umani non ha alcuna difesa, ma non siamo alla sua mercè. Ora l'OMS, con la declarazione dello stato di pandemia, potrà inviare equip mediche e di studio direttamente in Cina, in Italia e in Iran, che sono le tre nazioni in questo momento al centro dell'epidemia. Quindi una conferma, finalmente lo si aspettava da giorni, questo passo, questo cambio di passo da parte dell'OMS. Noi passiamo invece dall'OMS alle nostre aziende sanitarie. Sentiamo il punto con il direttore generale dell'Ulice Trevigiana, Francesco Benazzi. Tutte le altre patologie minori e tutte le visite programmate, eccetera, se chiediamo ovviamente all'utenza di avere un po' di pazienza e casomai se non c'è l'urgenza vera di lazionarli, è passato il periodo del 3 di aprile. Pazientare, se possibile, rinviare le visite non urgenti, in attesa che il picco passi e la macchina sanitaria ritorni alla normalità. Questo è un invito, non tanto tra le righe del direttore generale Benazzi. Sono tanti cittadini ma anche sanitari a chiedersi se non sia il caso di sospendere o comunque rallentare le attività ordinarie dell'Ulice 2, interventi programmati ambulatoriali, fatte salve ovviamente le urgenze, dalla cardiologia alla cura dei tumori. Sul fronte dell'attività ordinaria è la stessa Ulice 2 marca trevigiana ad attendere indicazioni generali da parte della regione sulle linee da adottare a stretto giro di posta. Noi siamo parte di un holding regionale, quindi credo che questo lo decideranno gli esperti, gli epidemiologi, i nostri esperti virologi e noi quindi poi in base a queste indicazioni obbediremo. Che siano giorni o reconcitate nessuno lo nega, lo stesso Benazzi è stato in visita alle tende allestite al cafoncello dove si effettua il pre-triage. Nei giorni del picco l'attenzione massima soprattutto verso i focolai presenti nella marca, in principio era quello della geriatria spento ma ancora attenzionato, adesso a preoccupare è quello nella zona di Conegliano. Lo stesso vale per poi i casi che si sono creati a Conegliano legati a quel benedetto triangolo che è quello di Orsago, San Fiore e Caneva dove andavano a giocare a carte ed erano interessati più anziani per cui anche qua l'indagine epidemiologica deve essere fatta e quindi spesso e volentieri vengono isolate dalle persone proprio per prudenza e quindi sono tutti i casi in più che si aggiungono. Prima di andare avanti con il nostro telegiornale vi do lettura di un lancio di agenzia che dice che in Veneto sono chiusi tantissimi hotel e questo lo sapevamo già purtroppo ma che quasi il 100% degli alberghi di Venezia, Bibione, Sottomarina e Garda siano chiusi è davvero un dato impressionante, il 98% degli alberghi di Jesolo è chiuso, il 95% degli alberghi di Cortina è chiuso, il 75% di Padova, oltre il 70% a Treviso e Verona. Sono dati che Fedele Alberghi ha ultimato poco fa facendo la triste conta e definita così degli alberghi che oggi hanno già chiuso, travolti dall'emergenza coronavirus. I dati sono desolanti, fanno sapere dall'associazione di categoria, come previsto i pochi esercizi ancora aperti stanno valutando di chiudere, quindi dal 95% si passerà probabilmente al 100% anche nelle località che ora hanno qualche attività ricettiva aperta e fa sapere il Presidente regionale della Federazione Marco Michielli che parla di chiusure in tutte le province, nessuna esclusa, quindi anche questo è un corollario veramente impressionante dell'emergenza coronavirus. Ma tutti possiamo fare qualcosa, perché è stato attivato un conto corrente che vedrete ora in sovrimpressione con tutte le informazioni. Vedete l'Iban, poi lo pubblicheremo anche sulla nostra pagina Facebook, pagina Facebook Diretta Veneta dove potete trovare anche informazioni, video, aggiornamenti, approfondimenti su quello che stiamo facendo vedere, stiamo mostrando in queste dirette ormai da tre settimane. Questo è l'Iban, la causale, la vedete, serve per donare, perché naturalmente si muoverà lo Stato, si muove la Regione, si muovono tutti, ma una mano al portafoglio la possiamo davvero mettere tutti quanti in merito a quello che sta succedendo in Veneto e in Italia. Andiamo adesso a vedere invece un aggiornamento dalla casa di riposo di Merlara, in provincia di Padova, dove si è verificato un caso e ci sono stati molti contagi fra il personale. Allora, questa mattina hanno ultimato gli ultimi paradi a tamponi e qui entro sarà probabilmente domani mattina. Al momento i contagiati sono? Tre, come pubblicato nel sito, 33. Cresce il numero di contagi all'interno della casa di riposo Scarmignan di Merlara, mancano ancora 40 tamponi su 87 persone all'interno, ma i casi sono saliti a 33. Il sindaco fa sapere che al momento i ricoveri sono solo due e non si trovano in terapia intensiva. I contagiati con sintomi lievi e tra di loro anche molti operatori sono rimasti all'interno della struttura. Certo, i servizi sono garantiti, la vita dentro continua con tutte le procedure necessarie per evitare il contagio. Quindi ci sono gli operatori sani, c'è tutto il personale che richiede la struttura ancora attiva. Andiamo a vedere, adesso sono appena arrivati in questo istante i dati relativi alla diffusione del contagio da coronavirus in Veneto. Possiamo leggerli assieme, dobbiamo ancora leggerli noi qui in redazione perché sono arrivati davvero pochi istanti fa, tempo di ricaricarli nel computer. Vediamo che il dato è veramente positivo perché parla solamente di più 13 sull'ultima rilevazione che è stata effettuata questa mattina alle 7 e mezza. Vi ricordate era sopra il centinaio il dato di questa mattina. Ci sono solo più tre sull'azienda ospedaliera di Padova, più tre persone contagiate a Borgo Trento, a Verona. Cresce l'ospedale di Mestre con più tre l'ospedale di Schiavonia altrettanto. C'è una persona ricoverata all'ospedale di Bassano e una in più a quello di Vicenza e in generale il totale, questa infatti vi chiediamo scusa, questa è una parte, non solo la parte dei ricoverati, quindi la parte con i dati in più arriverà fra poco e ve la mostreremo quando arriverà. Questi sono i ricoverati che sono solo più 13, non ci risulta gravissima la situazione della terapia intensiva. Poi vediamo insieme quella con i dati ufficiali. Adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo fra pochi istanti.